Il Vertice Nato è stato un momento storico davvero perché ha assunto decisioni importanti sia nella situazione attuale con particolare riferimento al conflitto che la Russia ha mosso l'Ucraina e la Nato ha riconfermato in maniera convinta e coesa la volontà di sostenere fin quando sarà necessario l'Ucraina e l'Italia sta facendo in questo senso e continuerà a fare la propria parte. Poi abbiamo assunto le decisioni sulle prospettive dell'Alleanza Atlantica con l'approvazione del concetto strategico e dentro questo c'è una particolare attenzione al tema del Mediterraneo e del fianco sud che è il tema che l'Italia ha sempre portato avanti con grande determinazione e con grande impegno. Siamo contenti che vi sia stata una condivisione anche di questo aspetto. L'ingresso di Finlandia a Svezia è sicuramente una portata storica. Colgo le preoccupazioni che sono state sollevate anche in relazione al tema kurdo. Credo che una cosa sia riconoscere una posizione rispetto alle organizzazioni terroristiche che sono riconosciute come terroristiche sia dalla Nato che dall'Unione Europea. Altro è voltarsi dall'altra parte e non considerare più amici i kurdi che hanno combattuto con noi contro l'Isis. Da questo punto di vista la posizione dell'Italia non cambia assolutamente. Le tasche degli italiani sono sempre più in difficoltà. L'inflazione picchia duro nel nostro paese. Sì, picchia duro, picchia in modo fortissimo nei settori del lavoro povero e quindi noi dobbiamo cercare di dare una risposta. Il bonus sapevamo che era una risposta parziale così come l'intervento sulle bollette. Ora io credo che si debba costruire un grande momento di coesione che metta insieme tre aspetti. Le modalità di rinnovo dei contratti, la riduzione della pressione fiscale sul lavoro e interventi che definiscono dei minimi salariali per comparto per contrastare il lavoro povero. Queste tre cose io credo debbano essere tenute insieme. Sarà importante anche il confronto con le parti sociali? Sarà determinante. Il Presidente Draghi ha annunciato che, cito testualmente, o la prossima o quella o la settimana successiva riconvocherà le parti sociali. Io credo che in quel momento si debbano determinare le condizioni per dare una risposta che tengano insieme queste tre questioni. Rinnovo contratti, cuneo fiscale, lavoro povero. Questo campo largo come si concretizzerà secondo lei in queste tre giorni o anche nel futuro? È un campo sul quale dobbiamo continuare a zappare perché non c'è soltanto un tema di giusta posizione di sigle, c'è l'esigenza della costruzione di un'identità, che cosa vuol dire al Paese questo campo, come vuole governare il Paese nei prossimi anni. Io penso che questo sia il punto di partenza. Il PD può svolgere una funzione, anzi svolgerà una funzione fondamentale. Le distanze e le vicinanze andranno misurate sulla base dei temi cruciali che stanno di fronte al Paese, che credo siano essenzialmente tre, quello geopolitico che viene dalla guerra, quello dell'esigenza di dare una risposta al tema delle diseguaglianze sociali e quello della transizione ecologica. Queste giornate la siccità ci dicono che non è più accettabile nessun tipo di negazionismo su questo terreno.